Sono con Sandra, le foglie di Arnolfo, per la seconda volta qui a The Taste of Italy, al Tuiga. Ciao Sandra! Ciao carissima! Io sono felicissima di essere per il secondo anno qui insieme a te, al Tuiga, e ringrazio i proprietari. Sono felicissima perché anche quest'anno facciamo degustare delle cose buone. Abbiamo portato dei blend di cioccolate da abbinare con grappe particolari, dei formaggi particolari e spero che tutto questo sia gradito dagli ospiti del Tuiga. Possiamo svelare che cos'è il dolce particolare delle foglie di Arnolfo questa sera? Allora, abbiamo portato una torta al cioccolato, solo cacao, con uno spolvero di cacao amaro da abbinare con rum e della grappa toscana. È un abbinamento favoloso.